Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il lutto, è uno stato emozionale di una persona a cui è successo qualcosa di irreversibile che porta ad una sensazione di tristezza o rimpianto. Più spesso si verifica ad esempio dopo un amato uno è morto, o alla rottura di una lunga relazione Sidney Quatier. Attore statunitense di origini bahamensi e primo afroamericano a vincere un premio Oscar come miglior protagonista, è morto venerdì a 94 anni. La notizia della sua morte è stata data dal ministro degli esteri delle Bahamas. Quatier era nato nel 1927 a Miami, negli Stati Uniti, ma era poi cresciuto alle Bahamas. All'epoca ancora una colonia britannica. Si trasferì negli Stati Uniti da ragazzo ed ebbe una carriera eccezionale nel teatro e soprattutto nel cinema. Fra i suoi film più famosi ci sono La parete di fango, Indovina chi viene a cena, La calda notte dell'ispettore Tibbs e i gigli del campo, per cui nel 1964 vinse l'Oscar come miglior attore protagonista.